Perchè studiare al Labios qui a Raiano? Possiamo dire unica in Italia, è un vero campus, è la logica di un campus però con uno spirito all'italiana dove abbiamo la convivenza, la convivialità tra gli studenti, abbiamo le occasioni per fare attività motoria dentro il campus, abbiamo questa meravigliosa biblioteca che è alle mie spalle ricca di un sacco di testi e viviamo in un ambiente, la Valle Peligna di Sulmona, che è un ambiente naturale fantastico. Qui le case per gli studenti fuori sede costano poco, abbiamo i vantaggi della natura, i vantaggi della serenità di poter studiare in un ambiente assolutamente non inquinato e puro e i vantaggi appunto di vivere un campus, con quello che significa nei rapporti sociali tra studenti e verso la motivazione allo studio dell'osteopatia. Grazie. Grazie.